parte della spesa sanitaria che ha avuto. L'ultimissima cosa, meno male nei casi della salute. Questo è un metodo di prevenzione. Noi l'ultimo par che abbiamo fatto, abbiamo anche fatto delle proposte e abbiamo anche fatto molti tempi, perché a moda ancora la spesa per la puzia che vuol dire per gli ospedali è ad un livello troppo alto rispetto alla spesa per la medicina territoriale. Adesso sembra che si invertì con questa tendenza un po' perché si è capito che non è il massimo delle aspirazioni neanche da parte dei pazienti. Le case della salute sono un metodo stupendo per poter evitare il ricovero troppo, per poter dare le garanzie e le sicurezze ai cittadini e agli ammalati. E' lo stesso metodo che sta alla base delle case della salute, che è quello di dire non sono io che vado a cercare la sanità e poi dopo mi disbligo all'interno delle opportunità che mi viene offerta dalla sanità. La casa della salute, questa è grande, che deve dire che è la lista della moda, che è un solo tiro per la provincia, dice invece vieni a me, ti prendo per mano e ti porto io come organizzazione nei posti dove devi andare per avere il massimo dei risultati rispetto alla tua cura, ma anche per me parlere del massimo della razionalità rispetto alla mia organizzazione. Vi lascio il mio qui. Quindi grazie.